Musica Musica La nostra intenzione è quella di farvi passare una serata un po' diversa dalle altre dai giochi di prestigio, magia, illusionismo, il clown, il bagnaccio, i serfini Musica Un numero che era un episodio, un episodio di giochi E per io, a vibrare Musica Un numero che è uscito Un numero che è uscito Grazie a tutti. E se vede la cosa, rodio come ne ha visto la bottiglia e riappazza. Grazie San Pesco, grazie, fai buona posto, bravo. Tira, tira, vuole un applauso un po' più forte, tira, vuole un applauso un po' più forte, tira, vuole un applauso un po' più forte, tira, tira, tira. Un fuorio di giornale non truccato. L'uomo è il tiro di Nicola. Mi devo sentire un po' più forte, certo è? Il quarto più più forte. Un fullerino? Con un fullerino rosso copriamo con il vetto. Pensate davvero di essere più furbi del mago? Va bene, siete pronti? Ce n'è poco, qui è poco Basterà per tutti? Questo basta solo per me Con questo basta, te lo dico io Basta solo per me Bene, bene Bene, bene Bene, bene Bisogna farlo aumentare Bene, bene Sono fatto Grazie a tutti Grazie a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Un bambino del pubblico ha offerto questo bicchiere di gazzosa per più simpatico di me. D'altro che è più simpatico sono io. Sono io. Io. Dai, c'è 5 euro da pagare. Io me lo giuccio. Dai, io, dai. 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 No, perché... Buongiorno. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti